Sizzando è stata una bella vittoria, una bella vittoria sofferta perché non era facile, soprattutto di portare a votare i cittadini. Oggi 26 giugno, la c'è andata anche calda di mare e quindi le difficoltà c'erano tutte. Però devo dire che anche se manca una sezione di studi, il vantaggio è molto ampio. Abbiamo circa 10 punti di vantaggio sulla concorrente, quindi è stata una vittoria abbastanza netta. E quindi segno che i civiltanovesi hanno scelto la prosecuzione, hanno dato fiducia a questa amministrazione e quindi è il segnale evidente che c'è stato un giudizio favorevole su questi 5 anni di attività. E questo fatto ci gratifica, ma allo stesso tempo ci responsabilizza ancora maggiormente perché i cittadini si aspettano molto a noi e dobbiamo dare delle risposte, dobbiamo dare in maniera concreta e veloce. Qualche situazione sulla squadra è arrivata? Adesso pensiamo questa sera a festeggiare questa vittoria. Domani saremo a lavoro, nei prossimi giorni ci vedremo con i gruppi di partito che mi hanno sostenuto, le liste, e faremo in maniera molto serena una valutazione su come impostare la squadra per i prossimi 5 anni.